Allora, no, questa dico che fa ridere, ma come fa ridere sul dark? Eh sì, perché guardate cosa è successo. Allora, dei ragazzi greci sono andati online e hanno comprato delle banconote false. Hanno comprato 40 banconote da 50 euro e hanno pagato, le hanno pagate 300 euro, ok? E hanno pagato con i bitcoin, perfetto. Poi a un certo punto sono andati in giro per Rodi, perché erano di Rodi, e hanno incominciato a spendere soldi per i vari negozi. Poi vanno in una tabaccheria, in questa tabaccheria, entrano e il tipo dice qua c'è qualcosa che non va. Guarda le banconote e si accorge di un dettaglio, è per quello che mi fa ridere, che le due banconote avevano lo stesso seriale. Aspetta che faccio la risata. Ok? Avevano lo stesso seriale e quindi ha chiamato la polizia. Mi ha fatto aspettare e ha chiamato la polizia. Allora, hanno fatto le perquisizioni a casa di questi ragazzi e nella casa del primo hanno trovato 10 banconote contraffatte, nell'altra 15 insomma li hanno sequestrati. Ora io dico, ragazzi, una volta se dovevamo andare a comprare, se qualcuno avesse avuto voglia di comprare banconote false, sarebbe dovuto andare nei soborghi più terribili, a 7 gradi di separazione, conoscere chissà chi, cioè non era roba per tutti. Oggi basta conoscere due o tre trucchetti tecnici, tac, si entra nel dark, si comprano un po' di monete, di criptomonete e si paga. E quindi arrivano a casa, ma che bello, ma che divertente, ma che gioco. E poi però vi arrestano. Ora, occhi aperti, cioè cervello aperto, bisogna aprirlo come un ombrello, perché sennò è un guaio se non si apre, perché non possiamo andare a comprare solo perché basta un click delle monete, è illegale, stiamo perdendo un po' il senso della legalità. E allora io volevo appunto sollecitare e ricordarvi di dire a tutti i ragazzi non fate troppe pirlate online, perché non siete anonimi e vi beccano! No! No!